Però io mi occupo di capire come si può migliorare questo aspetto e di cercare anche di trasferirlo alla squadra, come in questo caso ho trovato una condivisione perché sono pochi quelli aperti a capire l'attenzione al cliente, tra virgolette. Gianni è una di queste persone, quindi io sposo idealmente questa persona perché lui cura con attenzione come ci rivolgiamo alle persone, è molto importante le persone ci giudicano in sei secondi, sei secondi, non c'è mai una seconda occasione per fare una buona impressione, ci giochiamo tutto la prima volta anche quando vogliamo conquistare una donna. Quindi è molto importante perché poi se facciamo una cattiva impressione è vero che si può recuperare, però ce la giochiamo in salita, quindi è molto bene prepararsi, oggi pochi uomini si preparano, vanno così allo sbaraglio. Io sono molto dalla parte delle donne, per quello vorrei recuperare la cavalleria, cioè si va così, tanto per non dire delle cadute di gusto, lasciamo perdere. Poi, questo è l'ultimo invece, Consulenti nel benessere perché mi occupo nello specifico soprattutto di tutto quello che si trova quando andate in una spa, di come vi accolgono, di come vi dovrebbero trattare, di che cosa vi dovrebbero proporre, un argomento sgradevole proprio. E questo è l'ultimo book. Allora, questi sono per fare una presentazione.